Dante Cosentino, vice dirigente della squadra mobile di Pescara, purtroppo si torna a parlare di cocaina nella nostra città. Altri arresti? Sì, ieri mattina gli uomini della sezione antistupacente hanno fatto irruzione a un appartamento ubicato proprio al centro di Pescara, nel cuore, perché stiamo parlando di Diagram, c'è un appartamento pian terreno dove è domiciliata una vecchia conoscenza della malavita pescarese Massimo Giocondi, 43enne di Pescara, appartamento in cui lui praticava l'attività di prostituzione e proprio osservando questo via vai di clientela ci siamo accorti che molti si ricavano lì anche per altro, perché erano assuntori conosciuti di droga e da lì la decisione di intervenire proprio nel pomeriggio di ieri è un'operazione che poi ha consentito di ritrovare ben sei etti di cocaina detenuti da Giocondi. Ricordiamo che Massimo Giocondi nel marzo del 2011 venne arrestato dalla squadra mobile di Pescara insieme ad altre 37 persone nell'ambito dell'operazione Cormorano che consentì di smantellare un fiorente traffico di droga tra Abruzzo, Campania e Lombardia.